Con questo tutorial andiamo a studiare la somma e la differenza di cubi. Diremo che un polinomio, e in particolare un binomio, risulta essere fattorizzabile se può essere pensato come la somma di due cubi, oppure come la differenza di due cubi. Nel primo caso la fattorizzazione sarà la seguente, a più b che moltiplica a alla seconda meno ab più b alla seconda. Nel secondo caso della differenza di cubi la scomposizione sarà a meno b che moltiplica a alla seconda più ab più b alla seconda. Vediamo ora come poter applicare queste due formule negli esempi seguenti. Partiamo da questo, a alla terza meno 8. Diremo che questo binomio risulta essere fattorizzabile se riesco a pensare questo primo termine e questo secondo termine come una differenza di due cubi. Osservo che a alla terza deriva da a elevato alla terza. 8 invece deriva da 2 elevato alla terza, quindi a alla terza meno 8, in teoria lo posso andare a scrivere come a alla terza meno 2 alla terza. Ciò che ho scritto è uguale a questa struttura e allora vuol dire che a alla terza meno 8 è fattorizzabile e segue questo tipo di scomposizione. Nel primo fattore ho a meno b, a nel nostro caso è proprio a, b nel nostro caso è 2 e allora vado a scrivere a meno 2. Poi apro una tonda e ho a alla seconda, quindi devo scrivere a alla seconda, più a per b e quindi devo moltiplicare a per 2 e allora scrivo 2a. Ed infine b alla seconda e allora 2 alla seconda scrivo 4 e chiudo la tonda. E questa risulta essere la fattorizzazione di a alla terza meno 8. Vediamo quest'altro esempio. Allora ho un binomio e vediamo se è scomponibile per differenza di cubi. Mi rendo conto che x alla terza deriva da x elevato alla terza. 27 non è nient'altro che 3 alla terza e allora posso andare a scrivere 3. Infatti 3 alla terza ottengo 27 e y alla terza deriva proprio da y. Allora questo binomio lo posso pensare scritto come x alla terza meno, apro una tonda, 3y alla terza, ossia una differenza di 2 cubi. Possiamo allora applicare questa formula. Nel nostro caso a è x e b invece è pari a 3y e allora vado a scrivere a meno b e quindi x meno 3y che moltiplica a alla seconda e quindi scrivo x alla seconda. Poi ho un più a b, x per 3y e scrivo più 3xy ed infine ho più b quadro e allora devo andare a svolgere il quadrato di 3y scrivendo 9y quadro. Quello che ottengo è la scomposizione di questo binomio. Vediamo questi altri esempi, parto da questo esercizio. Voglio vedere se è scomponibile per somma o differenza di cubi. Mi rendo conto che un ottavo al cubo deriva da un mezzo x. Infatti un mezzo alla terza ottengo un ottavo, x alla terza ottengo proprio x alla terza. y alla terza deriva proprio da y e allora vuol dire che questa quantità la posso pensare scritta come un mezzo x alla terza più y alla terza e quindi ottengo una somma di due cubi. Potrò allora applicare questa regola e andare a scrivere a più b. a nel nostro caso è un mezzo x, b invece è y e allora scrivo un mezzo x più y che moltiplica a alla seconda e un mezzo x alla seconda è pari a un quarto x alla seconda. Poi ho meno a b, quindi moltiplico questa quantità per questa quantità e metto di fronte un segno meno, un mezzo xy e poi ho b alla seconda ed y alla seconda è proprio y alla seconda. In quest'altro esempio x alla terza lo posso pensare che deriva da x mentre 8 deriva da 2. Infatti x alla terza ho x alla terza e 2 alla terza ottengo 8 e allora questo binomio lo scrivo come x alla terza più 2 alla terza. Ho così una somma di due cubi e allora posso riapplicare di nuovo questa regola. Andando a scrivere a più b e quindi scrivo x più 2 che moltiplica a alla seconda e allora scrivo x alla seconda poi meno a b e allora devo scrivere x per 2 con un segno meno, meno 2x ed infine più b alla seconda e allora 2 alla seconda ottengo 4. In questo esempio a alla sesta mi rendo conto che deriva da a alla seconda mentre b alla terza deriva da b e allora questo binomio lo posso pensare scritto come a alla seconda alla terza meno b alla terza. Ho così una differenza di due cubi e allora posso applicare questa formula andando a scrivere a meno b. A nel nostro caso è a alla seconda e allora scrivo a alla seconda poi meno b che moltiplica a alla seconda e allora devo fare a alla seconda alla seconda ottenendo a alla quarta. Poi più ab e allora devo moltiplicare a alla seconda per b scrivendo a alla seconda b ed infine più b alla seconda. Partiamo da questo esempio osservo che ho meno un ottavo alla terza più 8 che preferisco scrivere come 8 meno un ottavo a alla terza. 8 deriva da 2 infatti 2 alla terza è proprio 8. Un ottavo alla terza deriva da un mezzo a e allora questa quantità la posso pensare scritta come 2 alla terza meno un mezzo a alla terza. Ho così una differenza di cubi e posso applicare questa formula e vado a scrivere a meno b. A nel nostro caso è 2 e scrivo 2 meno b. b nel nostro caso è un mezzo a che moltiplica a alla seconda e allora scrivo 4 più ab quindi devo moltiplicare 2 per un mezzo a. Semplifico i due e allora scrivo semplicemente a poi più b al quadrato. Un mezzo a alla seconda scrivo un quarto a alla seconda. In questo esempio a alla sesta b alla terza deriva da a alla seconda b. Infatti a alla seconda alla terza ottengo a alla sesta. b alla terza ottengo proprio b alla terza. 1 fratto 125 deriva da un quinto. Infatti 5 alla terza ottengo proprio 125. Mentre y alla 12 basta fare 12 diviso 3 ottengo 4 e allora deriva da y alla quarta. E allora questo binomio può essere riscritto come a alla seconda b alla terza meno un quinto y alla quarta alla terza. Ho così una differenza di due cubi e posso riapplicare questa regola andando a scrivere a meno b e allora a alla seconda b meno un quinto y alla quarta che moltiplica a alla seconda. Quindi devo sviluppare il quadrato di a alla seconda b andando a scrivere a alla quarta b alla seconda. Poi più ab, moltiplico questo per questo andando a scrivere un quinto a alla seconda b y alla quarta ed infine più b alla seconda e quindi un quinto alla seconda scrivo un venticinquesimo. y alla quarta alla seconda scrivo un ottavo. Vediamo quest'altro esempio. 64 deriva da 4 mentre a alla sesta deriva da a alla seconda. Infatti 4 alla terza ottengo 64, a alla seconda alla terza ottengo proprio a alla sesta. Il trucchetto è prendere questo 6 e dividerlo per 3. 6 diviso 3 ottengo 2. 8 invece deriva da 2 e allora questo binomio lo posso scrivere come 4a alla seconda alla terza meno 2 alla terza, ossia come una differenza di cubi. Riapplico di nuovo questa formula e vado a scrivere a meno b e allora 4a alla seconda meno 2 che moltiplica a alla seconda, 4a alla seconda scrivo 16a alla quarta più ab. 4 alla seconda per 2 scrivo più 8a alla seconda ed infine più b alla seconda e quindi 2 per 2 scrivo 4. Vediamo questi ultimi esempi. Parto da questo. Un ottavo deriva da un mezzo. a alla terza b alla terza deriva da b. Un mezzo al cubo ottengo proprio un ottavo, a b alla terza ottengo a alla terza b alla terza. 125c alla terza deriva da 5c. Infatti 5c alla terza ho 125 e allora vuol dire che questo binomio lo posso scrivere come un mezzo a b alla terza meno 5c alla terza come una differenza di due cubi. Applicando allora questa formula posso scrivere a meno b un mezzo a b meno 5c che moltiplica a alla seconda. Un mezzo a b alla seconda scrivo un quarto a alla seconda b alla seconda. Poi ho un più a b quindi moltiplico questo per questo ottenendo più 5 mezzi abc ed infine più b alla seconda. 5c alla seconda scrivo 25c alla seconda. In questo esempio per stabilire se questa quantità è una somma di cubi vado a fare 15 diviso 3 che è 5 e allora deduco che x alla 15 deriva da x alla quinta elevato al cubo. 27 invece non è nient'altro che 3 alla terza e allora 27 deriva da 3 elevato al cubo. Questo binomio allora lo posso scrivere come x alla quinta tutto quanto alla terza. Infatti 5 per 3 ottengo di nuovo 15 più 3 elevato alla terza. Ho così una somma di due cubi e allora potrò applicare questa regola andando a scrivere a più b. A nel nostro caso è x alla quinta e allora scrivo x alla quinta più b ossia più 3 che moltiplica a alla seconda x alla quinta alla seconda scrivo x alla decima poi meno ab quindi questo per questo ottengo 3x alla quinta ed infine ho un più b alla seconda 3 alla seconda ottengo 9 e questa risulta essere la scomposizione di questo binomio. Vediamo quest'ultimo esempio per stabilire se questo binomio lo posso pensare scritto come una differenza di due cubi vedo se 21 e 15 sono entrambi divisibili per 3. 21 diviso 3 ottengo 7 e allora vuol dire che x alla 21 deriva da x alla settima alla terza mentre a alla 15 andando a fare 15 diviso 3 ottengo 5 e allora vuol dire che deriverà da a alla quinta alla terza e allora posso scrivere x alla settima alla terza meno a alla 5 alla terza e allora scrivo questo binomio come una differenza di cubi. Applico allora questa formula andando a scrivere a meno b x alla settima meno a alla quinta che moltiplica a alla seconda x alla settima alla seconda scrivo 7 per 2 14 quindi x alla 14 più ab e quindi moltiplico x alla settima per a alla quinta ed infine ho più b alla seconda alla quinta alla seconda scrivo più a alla decima e con questo termino il tutorial sulla somma e differenza di cubi. ricCA FA